L'ho sentita molto provata, non si è ancora capacitata di quello che è successo. A 24 ore dalla morte violenta di Manuela Bittante per mano del marito Sergio De Zen restano lo shock di un'intera comunità ma anche la vicinanza alla figlia Aurora. In casa al momento del delitto ma in un'altra stanza la 45enne è ospitata da una zia fuori comune. Ora in tanti si interrogano sui perché ma soprattutto sul grado di disperazione di quella famiglia travolta dalla malattia della donna. Una tragedia della disperazione, le chiedo al sindaco, che si poteva evitare? Io credo anche di sì. Spiace doverlo ammettere però bisognava che chi dimetteva la signora avesse valutato le capacità effettive di farsi carico a domicilio, di gestire la signora perché era molto grave la signora. Alla base quindi un difetto di comunicazione con i sanitari che secondo Benedos dovevano rapportarsi diversamente con i servizi sociali. Un'operatrice del comune è stata nella casa di Viametti venerdì. Ci ha confermato che la signora era molto grave ma comunque era vigile, non parlava però riusciva a comprendere cosa gli stava succedendo, cosa gli è successo e sembra anche che riuscisse a comunicare scrivendo su un foglietto. L'Ulss2 dal canto suo dice di aver fatto tutto il possibile con la figlia Aurora sottoposta a formazione specifica per la PEG, l'alimentazione con Sondino. La 45enne era stata individuata come caregiver. Il mio servizio di cui sono responsabile è che si prende cura di questa tipologia di pazienti per cui non vengono lasciati da soli. Avevamo parlato con la figlia che si era detta disponibile a seguire la madre e quindi di fare questo ruolo di caregiver e quindi per stare assistenza alla madre a domicilio per cui avevamo provveduto anche a fare della formazione a fine agosto e sempre il medico di reparto ha parlato con il marito che aveva spesso il desiderio di portare la signora a casa e che avevano già un appuntamento per l'8 di settembre con i servizi sociali del comune di residenza. Insomma, Sergio De Zene e la figlia Aurora avevano manifestato una volontà precisa. In caso contrario, sottolinea Lombardo, sarebbero state trovate soluzioni alternative. Se la signora non era in grado di portarla a domicilio, quindi per liberare il posto acuto in attesa di un'ulteriore collocazione della signora in un posto adeguato, tipo casa di riposo, avremmo potuto sicuramente sistemarla per il periodo necessario in ospedale e comunità. Quello di Pederoba è quello che noi gestiamo. C'è poi un altro fattore di natura economica. Quello che la figlia mi ha detto domenica, quando io ho detto mamma mia, avete portato a casa la mamma così grave, mi ha detto sindaco, purtroppo ci avevano chiesto 3.000 euro per una casa di riposo. Quindi mi hanno detto, visto che io per il momento non lavoro, ho deciso di accettarla e di portarla a casa. Anche qui l'ULS2 spiega di aver informato la famiglia su tutte le soluzioni praticabili. I prossimi giorni serviranno a fare chiarezza.